Soldi per beni culturali, manifestazioni, spazi aggregativi per i giovani e turismo. C'è un po' di tutto nei dieci progetti che ieri al Cine Marconi di Alcamo sono stati approvati dall'Assemblea nominata per stabilire come destinare i fondi del bilancio partecipato. In tutto 41.000 euro, che per la verità sono frutto non solo del 2% dei trasferimenti vincolati dalla regione al comune, quindi poco meno di 9.000 euro, ma soprattutto dalla decurtazione del 10% delle indennità dei 24 consiglieri comunali, altri 32.000 euro, quindi la fetta più consistente. La fetta dei fondi più importanti va al castello di Calatubo, che ha ottenuto 12.900 euro per il ripristino dell'impianto di illuminazione, a seguire i 7.500 euro per abbellire Piazza Ciullo e Corso 6 aprile con piante e panche. Poi ci sono altri 10.000 euro circa per il Natale, che si vanno ad aggiungere gli altri 20.000 euro già stanziati dal comune in precedenza e serviranno per realizzare il Capodanno e la Cine Merenda. Sempre nell'ambito poi degli eventi, altri 3.000 euro sono stati destinati alla presentazione dal 1-2-3 dicembre della quinta edizione del Festival Internazionale di Danza, Musica e Cultura Orientale Aria. 5.000 euro invece vanno alla creazione di spazi aggregativi per i giovani, con acquisto di giochi e predisposizione di aria attrezzate. Altri 1.000 euro ciascuno per l'acquisto e l'installazione di contenitori per dei azioni canine e per sistemare la segnaletica turistica. Infine, 500 euro per pitturare di celeste la ringhiera lungo la linea ferrata di Alcamo Marina. Questi sono i progetti scelti dall'Assemblea, che comunque si è presentata a ranghi abbastanza ridotti. Dei 52 componenti appena in 35 hanno risposto presente, quindi in sostanza uno su tre ha disertato. L'Assemblea, afferma l'assessore all'economia e vice sindaco Roberto Scurto, ha preso in considerazione 45 proposte progettuali che erano già pervenute e ritenute ammissibili da parte degli uffici e sono 10 progetti approvati per aree, ambiente, politiche giovanili e della terza età, sviluppo economico, attività culturali e sportive, lavori pubblici, interventi finanziati che partiranno entro la fine dell'anno. Il bilancio partecipato è una delle iniziative concrete volute da questa amministrazione per coinvolgere sempre più i cittadini nelle scelte portate avanti dalla Giunta. Si tratta di una prima forma sperimentale di bilancio partecipato, aggiunge ancora Scurto, che si è rivelata un successo. Per il prossimo anno ci stiamo impegnando nel modificarne il regolamento per anticipare i tempi e facilitare le modalità di partecipazione di voto da parte dei cittadini.